Ciao da Lucia, oggi andremo a realizzare uno scaldacollo bimba. Allora, vi dico subito l'occorrente. Allora, io realizzerò questo scaldacollo con un uncinetto del numero 5, poi ci serve un tagliafili e io sto usando tre diversi colori di lana bravo. La lana bravo è, come voi saprete, 100% acrilico. Preferisco sempre per cappellini, sciarpine e cosine da bambini usare l'acrilico perché non pizzica. Ci sono anche lane che non pizzicano, per carità, non so dicendo questo, però diciamo che mi trovo bene con questo tipo di acrilico che è anche molto soffice, molto morbido e scalda abbastanza e quindi andrò a realizzare con questo acrilico il mio lavoro di oggi. Se volete trovare, come sempre, i filati che utilizzo, potete andare a vedere la pagina facebook di Marisa Marino oppure merceria.spillo. Io tutti i miei filati li acquisto lì. Gran parte dei miei filati li acquisto lì. Bene, direi che possiamo procedere con il nostro progetto. Allora, io ho avviato 69 catenelle per un totale di 47 cm. Dovete calcolare comunque la circonferenza della testa della bimba o del bimbo a cui dovete fare indossare questo scaldacollo perché ovviamente la misura principale comunque da tenere conto è proprio la circonferenza della testa in quanto deve passare proprio dalla testa essendo chiuso. Quindi andiamo a chiudere in cerchio il nostro lavoro e quindi chiudiamo con una maglia bassissima. 2 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta dopodiché in ogni catenella sottostante andremo a fare appunto una maglia alta. Se avete una mano un po' stretta sulle catenelle vi consiglio sempre il solito trucchetto quindi quello di usare un uncinetto più grande e il primo giro farlo con un uncinetto più grande di modo che poi non tirerà l'inizio del lavoro perché se come me avete la mano piuttosto strettina sulle catenelle poi tende a tirarvi l'inizio del lavoro e a sembrare che poi ci siano degli aumenti in realtà è proprio il fatto che tira la catenella iniziale. Detto questo io direi che, ah ecco, 69 perché abbiamo bisogno di un multiplo di 3 quindi se a voi servono più o meno catenelle d'avvio tenete presente che il multiplo è 3 quindi 3, 6, 9, 12, questo è il metodo per capire quante catenelle vi servono per il vostro lavoro. Finisco questo giro a maglia alta e ci rincontriamo per il secondo giro. Eccoci qua, allora, fatto il nostro giro di maglia alta, cosa facciamo? Allora, entriamo nella seconda catenella d'inizio e invece di chiudere con lo stesso filo vedete, appoggiamo sull'uncinetto il verde, in questo caso io ho scelto il verde e chiudiamo con il verde. C'è un buchino, vuol dire che io ho saltato una maglia e allora facciamo in questo modo, facciamo l'ultima maglia mi capita a volte di non contare bene l'ultima, quindi facciamo l'ultima maglia, in questo modo rientriamo nella nostra catenella e vedete, proprio così materialmente infiliamo il colore nuovo e lo chiudiamo. affrancheremo poi tutti i fili alla fine, in questo modo, scusate, mi sta girando la camera, non so perché. Ora cosa facciamo? Andiamo a fare le due catenelle, anzi tre catenelle iniziali, in questo modo, una catenella aggiuntiva che è una catenella di separazione, entriamo nella stessa catenella d'inizio e facciamo quindi il nostro primo punto V, tiriamo bene il grigio, tiriamo bene tutti i fili dietro poi dopo provvederemo ad affrancarli tutti. Senza nessuna catenella, carichiamo per fare una seconda maglia alta, saltiamo la catenella seguente e quindi andiamo nella successiva, no scusate, ho sbagliato, allora carichiamo il filo e saltiamo due maglie alte sottostanti nella terza, entriamo, facciamo una maglia alta, una catenella e di nuovo una maglia alta, di nuovo, senza catenelle di separazione saltiamo due maglie alte sottostanti nella terza, di nuovo punto V, quindi maglia alta, catenella maglia alta, di nuovo carichiamo, saltiamo due maglie nella terza, di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, nuovamente carichiamo, saltiamo due maglia alta, catenella di separazione e di nuovo nello stesso punto maglia alta vedete, stiamo creando dei punti V intervallati da nessuna catenella saltando due maglie sottostanti vedete, senza nessuna catenella, saltiamo le due maglie sottostanti e facciamo maglia alta, catenella, nello stesso punto maglia alta quindi proseguiamo così per tutto il nostro giro eccoci qua, quindi giunti a questo punto dobbiamo fare, ho tagliato anche quest'altro filo e dobbiamo fare un altro cambio colore quindi entriamo per chiudere il nostro punto V quindi entriamo e carichiamo l'altro filo, in questo caso il rosa in questo modo allora facciamo una catenella entriamo direttamente nel primo punto V anzi facciamo 3 catenelle perché ovviamente dobbiamo fare la prima maglia alta carichiamo ed andiamo a fare una maglia alta senza chiuderla tutta quindi chiusa a metà 2 chiusa a metà contando anche le prime 3 catenelle sono 3 4 maglie alte chiuse a metà quando abbiamo i 4 fili sull'uncinetto chiudiamo e facciamo un'altra catenella quindi saltiamo nel successivo punto V e facciamo una maglia alta chiusa a metà la seconda maglia alta chiusa a metà la terza maglia alta chiusa a metà la quarta maglia alta chiusa a metà chiudiamo tutto insieme 1 2 catenelle passiamo al prossimo punto V 1 maglia alta chiusa a metà 2 maglie alte chiuse a metà 3 maglie alte chiuse a metà scusate tolgo il gommitolo e 4 maglie alte chiuse a metà vedete rimaniamo con 5 asole sull'uncinetto chiudiamo tutto 1 2 catenelle stiamo facendo così i nostri fiorellini quindi di nuovo passiamo al prossimo punto V 1 maglia alta chiusa a metà 2 maglie alte chiuse a metà 3 maglie alte chiuse a metà 4 maglie alte chiuse a metà chiudiamo tutti insieme 1 2 catenelle e passiamo al prossimo quindi continuiamo così per tutto questo giro chiudo l'ultimo fiorellino ecco qui 1 2 catenelle ci vediamo in fondo al giro quindi giunti all'ultimo fiorellino cosa facciamo tagliamo anche questo filo li ho sempre tagliati li nascondiamo tutti dopo entriamo sempre nella nostra in questo caso terza catenella perché ci eravamo unite alla terza facciamo un po' fatica e invece di ricaricare il filo rosa ricarichiamo il filo grigio in questo modo quindi chiudiamo con una maglia bassissima prendendo il filo grigio lasciamolo un po' lunghetto il filo grigio tiriamo bene il filo rosa in modo che stringa bene ed ora facciamo 2 catenelle ed andiamo a fare una maglia alta in ogni maglia alta e foro sottostante quindi una sopra il nostro fiore e siamo a 2 2 nello spazio ovviamente creato dalle 2 catenelle fatte tra un fiore e l'altro uno di nuovo sopra il fiore di nuovo 2 nelle catenelle una un'altra sopra il fiore la vedete è proprio questa qua quindi scavalchiamo il fiore e ne facciamo 2 nelle catenelle per sicurezza contatele devono essere ovviamente 69 maglie alte ci vediamo al termine del giro arrivata quindi alla fine ci congiungiamo con una maglia bassissima sulla seconda delle 2 catenelle e procediamo sempre facendo 2 maglie all'inizio a fare io farò dipendendo da quanto la volete alta io penso che farò 5 giri di sola maglia alta sempre tutta col grigio quindi ci vediamo al termine di questi 5 giri quindi su ogni maglia alta sottostante lavoriamo una maglia alta questo per 5 giri allora io alla fine ho optato per fare 7 giri poi vi spiegherò perché i giri volevo che fossero dispari ora cosa facciamo facciamo ciò riprendiamo il nostro gomitolo verde quindi tagliamo il nostro filo grigio riprendiamo il nostro filo verde e lo rinfiliamo al momento della chiusura quindi entriamo nella seconda catenella d'inizio ecco qui scusate sono uscita e la maglia bassissima la tiriamo su con il filo nuovo io prima non ve l'ho detto ma l'ho fatto leggo sempre faccio un nodino alle codine perché almeno non scappano via quindi facciamo anche solo un nodino singolo così per sicurezza ne facciamo due così siamo sicuri che non scappano via e i fili poi ovviamente dopo ci preoccuperemo di fermare tutti i fili quindi che cosa facciamo andiamo a rifare i nostri punti V perché facciamo un altro disegno di fiorellini quindi facciamo le nostre tre catenelle una catenella di separazione carichiamo e nella stessa maglia quindi in questa entriamo e facciamo il nostro punto V senza catenelle di separazione saltiamo due maglie alte sottostanti aspettate perché qui la messa a fuoco è leggermente spasata ecco qua voilà saltiamo quindi due maglie di base sottostanti una e fatemelo vedere bene una e due eccola qua quindi nella terza entriamo e facciamo maglia alta catenella di nuovo maglia alta nessuna catenella di separazione saltiamo due maglie alte sottostanti e di nuovo quindi come abbiamo fatto prima quindi di nuovo facciamo i nostri gambi dei fiori in questo modo quindi andiamo avanti così per tutto il giro arrivati di nuovo al termine di questo giro di nuovo entriamo nella terza catenella di inizio e invece di continuare quindi tagliamo il filo verde e invece di continuare appunto col verde vedete mettiamo sul dito il rosa lo mettiamo sull'uncinetto allora aspettate però perché non sono entrata nella catenella ecco in questo modo carichiamo e chiudiamo con rosa come prima abbiamo fatto fermiamo sempre con un nodino le due codine dei due colori ecco qui e adesso facciamo così 3 catenelle 1 2 3 carichiamo e andiamo a fare altre 3 scusate sono fuori ve lo faccio rivedere andiamo a rifare altre 3 maglie alte chiuse a metà 1 2 e 3 per un totale di 4 usciamo da tutte 1 2 catenelle saltiamo nel prossimo punto v una maglia alta chiusa a metà la seconda maglia alta chiusa a metà la terza maglia alta chiusa a metà la quarta maglia alta chiusa a metà chiudiamo tutti insieme 1 2 catenelle di nuovo nel prossimo punto v stessa cosa chiusa a metà chiusa a metà 2 chiusa a metà 3 chiusa a metà 4 chiudiamo tutti insieme 1 e 2 catenelle quindi stiamo facendo un'altra fila di fiorellini ci vediamo al termine di questo giro tagliamo anche il filo rosa voilà rinfiliamo il filo allora entriamo nella terza catenella di inizio quindi questa qui entriamoci però non fate come me che la sfioro e basta ecco qui voilà e quindi rinfiliamo il filo grigio mi raccomando ancora leghiamo le codine facciamolo subito così evitiamo che si sfili qualcosa quindi 1 e 2 ho legato le codine ed andiamo a fare il nostro ultimo giro il nostro ultimo giro sarà semplicemente di maglia alta quindi come abbiamo fatto in precedenza 2 catenelle ed ora in ogni quindi in ogni spazio facciamo 2 maglie alte e una maglia alta proprio qui vedete dove c'è questa catenella qua attaccata al nostro tulipano quindi e facciamo la terza quindi 2 negli spazietti tra un tulipano e l'altro non vi ho ancora detto che sono tulipani questo è il punto tulipano e sono tulipani quindi 2 maglie alte dentro negli spazietti esattamente come abbiamo fatto in precedenza quindi di nuovo sopra alla catenella sul tulipano di nuovo 2 all'interno degli spazietti quindi dove abbiamo fatto le 2 catenelle andiamo a fare le 2 maglie alte e poi una proprio lì sul tulipano ci vediamo al termine del giro allora ho chiuso quindi unito e adesso vado a fare di rifinitura un semplicissimo giro di maglia bassa non volevo fare niente di più perché volevo che rimanesse molto semplice non volevo caricarlo troppo quindi vado a fare questo mio giro di maglia bassa di rifinitura sopra e sotto e poi vi faccio vedere l'accorgimento finale quindi vedete entriamo in ogni maglia alta sottostante e andiamo a fare la nostra maglia bassa non volevo altri appunto non volevo rifiniture più diciamo ricamate erzigogolate perché già abbiamo il nostro fiore che deve essere secondo me l'elemento dominante di questo scaldacollo quindi non volevo mettere cose che portassero via l'attenzione dai nostri tulipani e quindi finiamo questo giro di maglia bassa sopra e sotto e ci rivediamo per il pezzettino finale allora una volta finito il nostro scaldacollo decidiamo qual è il davanti e facciamo questa cosa allora ho fatto una catenella comunque di 130 maglie quindi 130 catenelle decidiamo qual è il nostro centro infiliamo una spilla a baglia e vi ho fatto fare i giri dispari perché adesso andrò in quello centrale quindi 3 e 3 andrò in questo ho deciso che questo è il mio centro il mio dritto vedete entro ed esco da ogni maglia alta in questo modo quindi vado a inserire la mia catenella in questo modo così una ad una tutte le maglie quindi non ho fatto degli occhielli perché è già abbastanza forato è per bambini e non volevo che ci fossero ulteriori fori che potessero insomma far prendere freddo al collo e quindi preferisco infilarmi tra le maglie alte vedete come quando si imbastisce un lavoro quindi facciamo in questo modo entriamo in tutte le nostre maglie alte dentro e fuori dentro e fuori ogni tanto tiriamo dentro e fuori dentro e fuori in questo modo è anche facile semplice e veloce così tiriamo bene ecco questo guardate lo facciamo insieme tanto è una procedura velocissima in questo modo ecco qui voilà ecco qua vedete abbiamo già finito praticamente usciamo dallo stesso forellino dove siamo entrati ecco qui arrivati qua possiamo sfilare la spilla balia io faccio un nodino prima di tagliare il nostro filo qui proprio sulla catenella non sul filo proprio la catenella faccio il nodino sulla catenella vedete così taglio bene cioè stringo bene e taglio e faccio la stessa cosa dall'altra parte quindi prima faccio il nodino in questo modo ecco magari non come l'ho fatto io andiamo più in giù eh sono stata un po' alta fatto il nostro nodino tagliamo così se dovesse sciogliersi la catenella abbiamo il nodino di sicurezza ora stringiamo un pelino in questo modo e questo è il nostro centro ecco qui facciamo il nostro bel fiocchetto e ho fatto questa cosa perché i bambini hanno la testa molto grande e il collo piccolino di conseguenza non volevo che magari aspettate li tiriamo pari nel senso che devono essere tutte e due lunghi uguali per stare bene poi vabbè quando avete il collo della bimba all'interno potete anche poi decidere di legarlo ecco come ecco qua col fiocchetto dritto bello arrotolatino ecco qua come vedete il nostro scaldacollo bimba finito no è sotto sopra perché abbiamo i fiorillini sotto sopra ma ecco qua il nostro scaldacollo bimba finito è un progettino facile veloce e veramente potete farlo anche con gli avanzini di filato perché veramente porta via ma neanche 100 grammi di filato quindi vedete è veramente veramente carino ecco spero che vi sia piaciuto questo mio piccolo progettino io vi saluto quindi vi invito sempre a venirmi a trovare sul mio gruppo facebook creando con lucefranci se vi è piaciuto questo tutorial mettetemi tanti mi piace io vi mando un grosso bacio quindi ciao ciao da Lucia a presto ciao